Il conduttore di Strescia La Notizia è stato pizzicato in compagnia di Romina Pierdomenico, modella classificatasi seconda Miss Italia nel 2012. Ezio Greggio potrebbe avere un nuovo flirt in corso. L'attore piemontese è stato intercettato dalla rivista Spy per le vie di Milano, in zona Porta Venezia, accanto ad una bellissima modella, Romina Pierdomenico. Il noto presentatore di Strescia La Notizia si sta godendo le meritate vacanze estive e, a quanto pare, le starebbe trascorrendo insieme a quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma. L'artista viene dalla fine della relazione con Simona Gobbi, durata otto anni, ed ora sembra pronto a ripartire insieme alla giovane Romina che ha 39 anni in meno rispetto a lui. Romina Pierdomenico, da Miss Italia a uomini e donne. La bellissima ragazza mora paparazzata accanto a Ezio Greggio si chiama Romina Pierdomenico, ha 25 anni, lavora come modella ed è originaria dell'Abruzzo. Ha partecipato e si è classificata al secondo posto a Miss Italia nel 2012, edizione vinta da Giussi Buscello. Ha anche condotto un programma televisivo su Rai Guin. Inoltre la presunta nuova fiamma di Greggio ha anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island come tentatrice e, successivamente, è approdata a uomini e donne come corteggiatrice di Amedeo Barbato. L'anno scorso, la Pierdomenico ha spilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un elegante abito lungo di colore azzurro, in occasione della presentazione della pellicola su Burbikin. Greggio e il presunto flirt con Ty Susa Winters. Qualche settimana fa, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, aveva lanciato un nuovo gossip circa un presunto flirt tra Ezio Greggio e Ty Susa Winters. L'ex velina, dopo aver avuto una relazione con il conduttore Teo Mammucari, culminata con la nascita della figlia Iune, si era legata all'ex cestista Paul Mario Baccalini, ma dopo otto anni anche questa relazione si era conclusa. Il conduttore di Strescia la notizia aveva subito chiarito che con la showgirl brasiliana c'era solo una bellissima amicizia, nata negli anni in cui lavorava con Evelina insieme a Melissa Satta. Alessi, però, non era sembrato molto convinto della smentita dell'attore Piemontese, scrivendo anche sulla rivista che dirige, Ezio, con una bionda così, conoscendo più. L'amicizia può anche andare a farsi benedire. A quanto pare, dopo le foto pubblicate da Spy che mostrano il comico con Romina per Domenico, sembra che effettivamente con l'ex velina brasiliana non ci sia stato mai del tempo.